Cari amici buongiorno dal processo di Gessaghi, seconda giornata del Fanta Garba League caratterizzata da ben 4 vittorie ed un solo pareggio. Partiamo con la prima partita, Spinegger-Real Madunina, 1-0 per Teospina, contro tutti i pronostici Teospina porta a casa la prima vittoria dopo il pareggio iniziale, quindi ha fatto un buon inizio ai danni di Real Madunina c'è da dire che anche il gol è stato caratterizzato da un miracolo di Alberto Paloschi, l'ex di turno, diciamo che Teospina si salva perché Ivanelli non riesce a pungere in nessuna maniera. Seconda partita vedeva davanti Gavatim contro Real Purpetta, anche qui vittoria di misura ad opera di Giovanni Spina basta solo Maxi Lopez per dare il colpo secco al binomio festa-siriani, quindi 1-0, grande vittoria di comunque Gio Spina che con un attaccante riesce a portare i tre punti a casa. Terza partita in programma, Osama Birlager contro Red Devils, anche qui uno striminzito 1-0 diciamo che però come sempre Maurizio Liva ha gli uomini che segni, vince 1-0 con un solo gol, del solito Palacio, grande prestazione all'Olimpio contro la Lazio ma c'è anche da dire che schiera Matri in panchina. D'altra parte Red Devils non aveva una brutta formazione, troviamo tanti buoni voti ma i 4 di patto condanna gravemente la formazione del prestigiatore di Pio Principe Samafaldi. Ultima vittoria della giornata, Mollani contro Ciolo Team, 3-1 Qui abbiamo una grande prestazione di Cavani che sconfigge letteralmente gli undici di Alessandro Cortinovis. Ciolo Team arriva comunque a fare un gol nonostante non ne abbia fatti nessuno, quindi 3-1 il risultato finale. L'unico pareggio della giornata è la partita più strana fra Porceddu e SMR City. 2-2, partita sembrava ricca di gol ma non è stato proprio così. Doppietta di Giovinco e espulsione di Giovinco dalla parte di Porceddu. SMR City con un solo gol del solito Antonio Di Natale, un altro gol lo aveva in panchina con Maurizio Isla. Non l'ha schierato ma per i buoni voti è riuscito ad arrivare a due gol. C'è da dire che alla fine Porceddu si è riuscito ad agguantare gli estremi, nonostante la casa e la doppietta, agguantare il pareggio. Dato che se Giovinco non avessero segnato il novantesimo, SMR City, Mattia Gessaghi avrebbe portato a casa la vittoria. Quindi quattro vittorie e un solo pareggio in questa seconda gioia di Fantagarmarie. Arriviamo alla consuetudine rubrica, la parte di questa rubrica che assegna l'Oscar e il bidone. Oggi l'Oscar della giornata va a Denis Chiarello, mollami, perché mentre il ciolo pronunciava le parole Aleia Iacta Est, il dado è tratto. Proprio in quel momento Chiarello tirava fuori la spada e lo faceva fuori. Tripletta di Cavani, in pochi minuti, affonda la spada Chiarello. Grande vittoria al copre di Via Valli, l'avevamo detto in precedenza. E' forte, quest'anno è forte, riesce a ribaltare anche il risultato in Menchesi. Il pippero della settimana, questa volta aspetta a Real Pulpetta, il binobio Sirianni Roberto Festa. Perché questo? Diciamo che comunque hanno perso sia un a zero, ma è gravissimo. Troppo grave lasciare Thiago Ribeiro in panca, quindi un gol fuori in panchina. E anche Kucca, schierato in tribuna, che ha segnato. Non era così tanto difficile pareggiare questa partita. Il pippero valuto. Situazione generale, vedi così al comando Samadir Laghe, l'avevamo detto, anche Maurizio Liva, in grande spolvero, vuole vincere, non ha mai vinto un Fanta Garbalic, sei punti. Poi abbiamo Spineggere Mola nei quattro punti, Cholo Team, Gavatim, Red Davis a tre punti. Porcedo, Sarmel City, la Pulpetta e la Madunina, un punto. Quindi una sola squadra a comando e tutti gli altri che insieme. Seconda giornata diciamo non emozionante, ma si vedrà. Adesso ho subito una partita di campionato durante la settimana. Vedremo un po' come andrà a finire. Dal processo è tutto. I buoni e saghi vi saluta. Alla prossima giornata perché noi tutti WE HAVE A DREAM! Fanta Garbalic! Alla prossima giornata! Alla prossima giornata!